ciao sono diego stacchiotti e benvenuto in questo nuovo video oggi parliamo di scrittura se ami scrivere e desideri sviluppare questa abilità ti consiglio di utilizzare questa penna per i tratti sottili e questo pennarello per quelli più grossi certo all'inizio è preferibile scrivere a matita ma per leggere meglio specialmente nel caso in cui l'illuminazione non sia ottimale come può capitare suonando dal vivo è preferibile utilizzare queste penne che offrono un tratto più marcato deciso e quindi più leggibile tutti i volumi di the drummer's book sono stati scritti interamente a mano sono felice che la casa editrice arcana abbia deciso di lasciare intatto il mio lavoro rendendo le pagine più calde e personali vediamo ora un esempio scrivendo un ritmo in stile funk fusion grazie a tutti beh non ci resta che sentire come suona spero di averti trasmesso la mia passione per la scrittura musicale fammi sapere nei commenti come procede ti invito a lasciare un like ad iscriverti al mio canale se non lo hai già fatto ma soprattutto a cliccare qui in basso dove troverai la campanellina per rimanere sempre aggiornato ciao a presto